Lavoravano in nero e rappresentavano più del 10% degli addetti delle singole aziende controllate, i 20 lavoratori scoperti dalla Guardia di Finanza in 6 aziende della provincia di Padova, in azione le fiamme gialle della Compagnia di Cittadella e della Compagnia Cittadina. Nell'Alta Padovana sono stati adottati 5 provvedimenti di sospensione di attività e scoperti omessi i versamenti dell'IVA per oltre un milione di euro. Nei guai in città è finita una pizzeria da asporto, anche in quest'ultima l'attività è stata sospesa.